Tenuta con due mani, ok? Allora il jump è una realtà fanese ma non solo, insomma chi siete, cosa fate, perché, come? Allora sì, il centro estivo jump è il centro estivo sportivo dove troviamo appunto istruttori qualificati, preparati che mettono tutto il loro impegno per insegnare, far divertire comunque ai bambini e ai ragazzi attraverso gli sport e i giochi che vengono proposti durante tutta la giornata. Non si può tirare in faccia, chi tira in faccia lo butto fuori, lo mando fuori dal campo. Allora quali sono le offerte sportive che potete proporre e dove si possono praticare? Allora sì, il centro estivo ovviamente ha carattere sportivo e quindi tutti i bambini hanno la possibilità di provare un pochettino tutti gli sport da quelli più presenti nel territorio fino anche agli sport un po' più sconosciuti. I centri estivi sportivi si trovano un pochettino in tutta Fano e i centri più famosi sono quello di Bagnicarlo, della Trave al campo da rugby e di Sant'Urso. Poi abbiamo anche Carrara, Itaca, San Lazzaro, molti mini jump e siamo sparsi anche fuori Fano con il centro di Senigallia, Monteporzio, Cappone e Sant'Angelo. Sicuramente la forza dei centri estivi jump è il numero, quest'anno siamo riusciti ad arrivare a 1.003 iscritti e quindi questo ci permette di offrire sempre più centri disponibili per le famiglie e per i bambini. Giallo, 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 giallo. Bello, 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 bello. Allora l'estate è passata però questo non vuol dire che voi cessate la vostra attività, voi siete attivi tutto l'anno, 12 mesi all'anno, estate e inverno. Sì, sì, certamente, noi siamo già ripartiti con le attività invernali, per i più piccolini abbiamo il gioca sport che è attività motore e formazione sportiva per i bambini sia della materna che delle scuole elementari fino ai 10 anni, è attivo il corso di dodgeball, di bocce, badminton e tantissime altre attività anche per gli adulti quindi anche per i genitori e per i nonni. Dove vi si può contattare per vedere le vostre attività o i luoghi dove iscriversi? Ci potete contattare nelle pagine della Sportfly SD su Facebook o anche le pagine appunto di ogni attività quindi dodgeball, badminton, gioca sport sono tutte, insomma ci trovate su Facebook e poi c'è una segreteria che è aperta lunedì e mercoledì alla notte dalle 4 alle 7 e il giovedì sempre stesso orario alla Venturini e ovviamente c'è anche il numero che appunto potete chiamare e vi risponderà la ragazza della segreteria. Grazie 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 Grazie